Salve a tutti ragazzi e benvenuto in questo nuovo video. Come detto al titolo in questo video vi parlerò della recensione di FIFA 17 mobile. Allora parto con dirvi che già dalla immagine si può vedere che la schermata è simile a l'altro gioco dell'Electronic Arts ovvero in questo FIFA praticamente ci saranno degli eventi si possono fare ovviamente partite ci saranno degli eventi dove possiamo guadagnare i pacchetti e poi trovare i giocatori. Questo FIFA rispetto agli altri anni è un po' cambiato perché è stato fatto da zero e quindi occupa meno spazio infatti meno di 100 mega. Dovrebbe essere così, poi se cambiano non lo so, però così è l'hanno detto. Naturalmente come in tutti i FIFA lo scopo del gioco è formare una grandissima squadra e vincere le partite ovviamente e si possono partire gli amici e i giocatori online e niente ci sono degli eventi poi devo guadagnare i pacchetti quindi questo penso sia una cosa molto bella e che per chi potrà aiutare molto più facilmente a fare una grande squadra. Spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un like e ci vediamo al prossimo video ciao